La 38esima edizione di Automotorretro è ufficialmente iniziata. Quest'anno ho deciso di essere i vostri occhi, andiamo a scoprire insieme le novità e i nostri vecchi amici. Appena si riuscirà ad entrare ci mettiamo in coda. Ci sono padiglioni per tutti i gusti e partiamo dal padiglione numero 2 dove si trova il cuore della passione del motorismo d'epoca. E qui Maschietti parlo proprio con voi. Guardate, la prima auto è proprio una Bugatti. Grazie a tutti. 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 di automobili ufficialmente firmate Pininfarina, quindi siamo arrivati a 626 ed è un numero abbastanza rilevante, diciamo che i due marchi che la fanno da padrone, da padrone sono Ferrari evidentemente è Lancia. 1, 2, non mi ricordo cosa c'è dopo il 2, bravi, 3, ci troviamo all'interno di questo padiglione dedicato a chi vuole ampliare la sua collezione oppure a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo favoloso mondo, ovviamente troviamo auto e moto per tutti i gusti e per tutte le tasche Nel salotto qui di Dimensioni Vintage del nostro stand tv Alessandro Pavastro è tornato a trovarci, lui è un admin di una pagina facebook molto molto attiva Retroattivity e anche un appassionato land perché vi seguiamo, ci seguiamo con queste land e ne state combinando una per colore. Bel movimento questo Retroattivity. Grazie, ciao a tutti, ci diamo da fare, ci divertiamo, condividiamo la nostra passione pura, semplice, senza lucri, senza invidie e giochiamo, poi con la Land Rover c'è questo gioco dei guasti e quindi sono sempre oggetto di perdite d'olio e si gioca, si sta al gioco e ci si diverte, è un passatempo. Allora io non avevo la pecunia per permettermi una Land, ho preso un magno ma ti assicuro che a perdite d'olio non sono secondo nessuno. Ma anch'io la Land poi insomma è caratteristica, quindi quando mi dicono perde olio, si perché lo ha, vai avanti col gioco, poi se è una passione comunque non costosa, non stiamo parlando di auto di grande lignaggio, ci sono dei bei pezzi specialmente qui nello stand e si fa quello che si può, ho misurato le proprie possibilità. Allora ho visto che avete anche toccato il tasto dei millennial che hanno spostato un po' l'ordine di gradimento delle vetture d'epoca, quindi non si parla più di pezzi storici ma stanno dando importanza e conseguenza valore a quelle vetture che sono state protagoniste dei film, i telefilm che praticamente li hanno visti da bambini e adesso le vogliono comprare, alzandone ovviamente il valore. Sì, questo sì perché poi quando si parla di auto storico c'è sempre lo scopo di lucro, quanto vale, ma se la vendi, è una cosa che a me personalmente dà un po' fastidio perché la passione è ben altro. Il marketing è un'altra, adesso sì, i millennial si stanno lanciando su questo tipo di business, anche perché il settore dell'auto storico è già abbastanza sfruttato, quindi sì, stiamo a vedere cosa succederà in futuro con queste auto qua. E poi c'è il padiglione 1, dove potete trovare tutto ciò che vi serve per la cura, la manutenzione e soprattutto per le coccole delle vostre, ma anche le nostre, amate autovetture d'epoca. Grazie. 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 Questa è una manifestazione che crescerebbe ancora se ci fosse superficie. Sì, effettivamente stiamo occupando fino all'ultimo metro di Lingotto Fiere, sia interno che esterno, compreso il padiglione Oval. Avremmo bisogno veramente di poter raggiungere qualche metro perché anche quest'anno siamo stati costretti a dire no a molti espositori che chiedevano di partecipare. Non penso che ci siano altre soluzioni, di conseguenza ci fermiamo qui. Sicuramente dopo che lui ha deciso di andarsene abbiamo fatto delle cose molto molto belle. abbiamo raccolto tanti soldi, ma questo devo ringraziare veramente a tutti i tifosi. Abbiamo fatto questo centro per ragazzi disabili a Coriano, abbiamo speso quasi 3 milioni di euro, è una cosa bellissima di cui ne sono orgoglioso. Stiamo cercando di arredarlo perché è veramente grande, è più impegnativo di quanto pensassi, però veramente è una grande cosa. Ed è la dimostrazione poi di dimostrare alla gente che i loro soldi non vanno buttati via. Perché ogni volta che vengono dalle parti di Richon, Rimini e Coriano passeranno lì davanti e potranno dire beh qui qualcosa ho fatto anch'io. E mi permetto, in caso di energia, di darti un piccolo presente che servirà a ricaricare i tuoi cellulari, i tuoi top e magari ai ragazzi, perché no, mettilo nella scuola e se hai bisogno ci puoi trovare perché potremmo darti una mano. Bene, in qualunque modo ricordiamoci da 5x1000 che ve lo portano via ugualmente, fatelo e datelo a chi vi pare. E noi potremmo essere quelli giusti. Allora, SIC58, è una scuola veramente particolare, aiutiamo chi aiuta, va sempre bene e soprattutto ci fa star bene. Grazie ancora Paolo. Grazie ragazzi. Ciao. Ed ecco, anche a questa edizione di Automotore 3 ci sono lì a B2E. Ma c'è da dire che l'anno scorso di questi tempi c'era una vettura molto importante e adesso siamo qui in compagnia del signor Dario, buongiorno Dario, che ci racconterà la storia particolare di questa vettura. Allora, buongiorno a tutti i visitatori di Automotore 3, a tutti gli amici del collezionismo italiano di autostoriche. Noi siamo Silva Auto, una società di commercio di automobili. L'anno scorso abbiamo fatto la famosa asta della vettura della eredità giacente di Osvaldo Avalle. Una vettura molto importante come la Giulietta SZ che è stata ritrovata nel garage sotterraneo nascosta di casa per moltissimi anni, oltre 30 anni è stata ferma. E a distanza di un anno questa vettura purtroppo ha lasciato l'Italia perché chiaramente un collezionista molto importante tedesco ha deciso di acquistare questa vettura dopo averla visionata, provata, fatta verificare ai massimi esperti di vetture di questo tipo e ha lasciato l'Italia per una cifra non indifferente di 680 mila euro. Di conseguenza vuol dire che alla fine la battagliata asta che si è tenuta il 31 gennaio 2019 ha avuto ragione Silva Auto che alla fine ha acquistato la vettura perché comunque è riuscita a creare anche un discreto utile, un discreto margine su una vettura sicuramente unica e rara. Per cui siamo assolutamente felici, la vettura era stata presentata in anteprima al pubblico dopo il ritrovamento esattamente l'anno scorso ad Auto Moto Retro, poi ha varcato i confini dell'Italia andando prima a Parigi, poi a Stoccard e successivamente ad Essen, poi è rientrata in Italia e alla fine ha lasciato definitivamente con la radiazione per esportazione il paese dell'Italia dove è sempre stata nata e vissuta per andare in Germania. Credo che purtroppo storie come queste siano molto piacevoli dal punto di vista della storia dell'automobile, del ritrovamento e anche umanamente perché comunque c'è stata dietro una persona che ha comunque conservato la vettura in modo particolare e inoltre chiaramente l'Italia però perde purtroppo un pezzo di storia non indifferente che probabilmente penso di poter affermare con sicurezza che forse è l'unica vettura Alfa Romeo Giulietta SZ a coda tonda originale, esistente e soprattutto mai toccata, quindi mai restaurata, mai smontata ma conservata veramente dalla prima all'ultima vite. Automotore Troti quest'anno ci ha dato altre soddisfazioni perché è sempre una vettura di Osvaldo a Valle che è sempre stata comprata all'asta e è stata venduta quest'anno da noi, da Silva Auto è stata venduta ieri, 31 gennaio, a distanza di un anno esatto dalla famosa acquisizione con la Giulietta SZ, meno di un anno perché l'abbiamo venduta il 15 gennaio questa invece l'abbiamo venduta il 31 gennaio e questa vettura va in Giappone quindi anche questa è un'altra vettura ad appannaggio di collezionisti di un certo pregio e soprattutto che capiscono e amano gli oggetti veramente particolari e non solo lucidi o restaurati o comunque creati ad arte per la rivendita. Diciamo che grazie ad Automotore Trot eco anche gli stranieri possono apprezzare i nostri pezzi italiani bellissimi voi restate con noi e cercheremo delle altre storie incredibili. Nel salottino di dimensione vintage passano sempre ospiti che hanno fatto, disegnato, possessori straordinari di auto piloti incredibili ma non abbiamo mai avuto il barbiere delle automobili perché il barbiere? Perché è colui che se ne prende veramente cura perché le macchine anche se sono appena state restaurate invecchiano. Giusto Cristian? Sì, salve a tutti. Sì sicuramente c'è necessità di persone professionali che mantengano, curano, puliscono e proteggono tutte le auto e tutte le moto che ci sono ovviamente in giro nel nostro mercato insomma. Hai detto una cosa bella, voi siete professionisti del settore bellezza ma soprattutto protezione. Assolutamente sì, nel mio caso ecco io sono uno dei fondatori di un'associazione professionale quindi fatta da soci che fanno questo tipo di attività nei vari sistemi che siano sistema tradizionale ad acqua il car wash, sistema waterless senza acqua, sistema nuovo vapor cleaning e il detailing ovviamente che è tutto ciò del mondo della lucidatura. Sono nati dei prodotti che fortunatamente vanno anche a contrastare un po' quello che l'ambiente stesso essendo diventato più aggressivo cerca di minare tra virgolette le nostre bellissime e questi prodotti sono veramente funzionali. Assolutamente, oggi siamo evoluti all'ennesima potenza, esistono prodotti protettivi spettacolari, la tecnologia, il nanotecnologico oggi aiuta tantissimo a proteggere ma a fare super belle le auto e le moto, attenzione. Sai, noi siamo abituati a fare il restauro e poi le mettiamo sotto la copertina ma anche sotto quella copertina accade qualcosa? Assolutamente, si creano delle problematiche, probabilmente l'ambiente non è idoneo, non è asciutto e comunque sotto quella copertina si può comunque creare un'ossidazione, la ruggine, si possono creare ovviamente scoloriture delle vernici, sono tante le problematiche sotto quella copertina. Tra l'altro noi come associazione formiamo le persone che vogliono entrare in questo mondo e anche chi c'è già vogliamo aggiornarlo, migliorarlo e abbiamo tutta una serie di corsi per tutti i sistemi di detailing e cleaning. Bene Cristian, allora io ti devo salutare, grazie per essere stato in questo salottino. Ma prima di ringraziarti Paolo, io volevo fare una cosa, qui un po' una sorpresa per te ma io so che tu sei un appassionato di auto, hai delle bellissime auto e sei un maniaco della pulizia e della protezione. Quindi Paolo, noi vorremmo che tu entrassi nell'associazione come socio benemerito. Non so se benemerito. Assolutamente sì, io poi qui ho una sorpresa per te, ho la tessera, quindi... Allora, associazione, associazione professionale, socio benemerito, ragazzi è anche nera quindi ci sta la grande, bello anche il vostro logo, la patch. Allora guarda, io questo qua lo metterò sul mio gilet, ovviamente brandizzato Lamborghini perché sai che io... Assolutamente sì, è un onore stare vicino al marchio Lamborghini. Assolutamente e avrò cura veramente di esporlo perché notavo che dietro ecco i professionisti... Del dettaglio. Tu sai che il diavolo è nei dettagli e quindi bisogna però essere bravi e avere il tempo. Ma noi siamo bravissimi perché ovviamente lavoriamo molto professionalmente e soprattutto con tanta umiltà ma una cosa che io ci tengo nel dettaglio. Di fatto per stare in tema, Cristian davvero, allora io ti saluto, ti faccio ovviamente tanti complimenti, siete veramente molto bravi, grazie. Questo è un onore grandissimo e lo porterò con... vedrai che cercherò di tenere alto questo grande onore che mi avete fatto. In bocca al lupo anche per i vostri progetti perché so che ce n'è qualcuno, ma non lo diciamo adesso, ma ce n'è qualcuno veramente imminente. Grazie ancora Cristian, grazie ancora a te e tutta l'associazione. Grazie a tutti, grazie Paolo, grazie. Non riesco a trovarlo, chissà dove sarà Paolo. Mezz'ora che lo cerco. Ah, ecco, mi pareva strano. Buongiorno, ma lei cosa ci fa qui? Buongiorno, allora dovete sapere che la Batmobile si può restringere ed allungare. Per entrare nei padiglioni abbiamo dovuto compattare tutto. Allora stavo avviando la procedura per farla di nuovo tornare come prima, una volta uscito. Però, scusami, perdonami, temo che si sia svelato una cosa che doveva restare segreta. Svelare? Un segreto? Ma dai, ma lo sanno tutti che sei Batman, non c'era più nulla da svelare. Dai, adesso che intenzioni abbiamo? Allora, sicuramente di tornare alla Batcaverna e di concludere questa bellissima puntata dedicata ad Auto Moto Retro 2020. Quindi si va di nuovo per un'altra avventura. Amici, ci diamo l'appuntamento al prossimo Auto Moto Retro 2021, ma mi fai un po' di spazio? Dai, ce ne andiamo. Dai, Batgirl, monta su, si torna alla Batcaverna. Ciao! Ciao! Ciao!